Ciao da Avsim! Forza Juve! Forza Juventus innanzitutto e buona alba Juventus, buona nuova alba, l'inizio di una nuova era di missioni in toto del CDA, Agnelli out. Ma oggi, ieri sera, stanotte, piangono gli sprovveduti perché era tutto chiaro, era tutto evidente e lasciatemi dire non mi dovete ringraziare, non mi dovete esaltare, non mi dovete chiedere scusa perché leggo cose, capisco l'esaltazione del momento, parliamo di Juventus. Io, semplicemente, semplicemente notiamo questo, io non ho fonti, non ho indiscrezioni che mi arrivano sul telefono e quindi so dirvi cose che non sono pubbliche, io leggo tutto quello che è già pubblico, pubblicato a disposizione di tutti. Quindi, casomai, la domanda è se ci sono arrivato io, in anticipo di settimane, a capire che prima o poi il CDA si sarebbe dimesso perché non poteva andare avanti, ci sarebbe dovuto arrivare anche qualcun altro, qualcun altro che avrebbe avuto e ha avuto sicuramente accesso a informazioni che non sono pubbliche come quelle a cui ho avuto accesso io. Quindi, come mai non è stato detto nulla di tutto questo? Come mai, e ho ribadito questo concetto, quando è stata rinviata per la prima volta l'Assemblea degli Azionisti dal 28 ottobre al 23 novembre non ne ha parlato praticamente nessuno? Com'è possibile passare dalla gestione Agnelli e quindi tutti in riga, tutti nel pieno rispetto dei ruoli e del Presidente a distruzione totale, nuova era, adesso cambia tutto? Sì, chiaramente si sono dimessi, ma nel mezzo la gestione che è stata fatta della narrazione, della comunicazione fino a questo momento, lascia un po', lascia un po' qualche dubbio, ecco, qualche dubbio sulle scelte che sono state fatte da parte di chi, forse, non dico sapeva, ma avrebbe potuto mettere insieme i pezzi, come semplicemente ho fatto io. Ma, ripeto, senza nessuna autocelebrazione, proprio assolutamente zero, vi voglio soltanto ringraziare perché, comunque, pur nelle difficoltà di far passare determinati messaggi, di dire determinate cose, nelle scorse settimane mi avete dato tanto supporto, mi avete dato ascolto, mi avete dato sostegno. Avete creduto a quello che vi dicevo, non perché, spero, spero, non perché ve lo dicevo io, ma perché era credibile quello che dicevo. Quindi, è un po', se è una vittoria, è una vittoria di tutti, non è una vittoria mia, è la vittoria di chi, nell'ombra, ha continuato a dire determinate cose. Ecco, è la vittoria di chi continuava a ballare pur in assenza di musica, o meglio, ballava mentre gli altri gli davano del pazzo perché non sentivano la musica. Per citare la lettera, l'ultima lettera delirante, l'ultima delirante lettera del dimissionario presidente Andrea Agnelli, non più presidente Andrea Agnelli della Juventus, dopo 12 anni, ha citato Nice, ha citato Nice in inglese, quando Nice, il testo originale, sarebbe stato in tedesco, allora tanto vale che lo citi in italiano. Ma va bene, dettagli, vogliamo dire piuttosto che il commiato di Andrea Agnelli non è ai tifosi? Il commiato non è ai tifosi? Dove siamo? Dove siamo? Per l'ex presidente dove siamo? Il commiato è ai dipendenti. Ed è delirante perché? Perché cosa c'entra il deal con Volkswagen? Cosa c'entra la prima società ad avere una serie Netflix e Prime Video? Cioè tu dopo 12 anni stai salutando il tuo ambiente e citi soggetti terzi che non fanno neanche parte della tua galassia, non sono parte di Juventus, poi mi parli del percorso da fare per scendere in campo, citi nomi di stadi che non sono, a parte quello di casa, che non ci appartengono, che non sono neanche tanto significativi per chissà cosa. È una scelta sua personale di dare un significato e importanza a quegli stadi piuttosto che ad altri. E poi però ci sono dei passaggi chiave importanti quando parla di venir meno della compattezza. Giusto lasciare che siano altri a risolvere questi problemi. Peccato che questi problemi li ha provocati Andrea Agnelli insieme a Nedved, in parte anche a Riva Bene ed altri che ci sono stati prima. Ci metterei anche Allegri problemi tecnici, diciamo, problemi anche sportivi, ma anche di spesa. Ma anche di spesa, perché Allegri, a parte lo stipendio, ne ha fatti spendere di soldi per ritoccare la squadra, nonostante avesse posto le buone basi. Ma di Allegri parliamo in un altro video. Su Allegri ci sarà un altro video perché non possiamo mettere tutto insieme. Già qui ci saranno tantissimi contenuti e quindi non voglio neanche andare troppo per lungo, ma soprattutto concentrare l'attenzione prima sulla situazione dirigenza e poi sulla situazione parte sportiva. Quindi ci sarà un altro video. Attivate la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto, dopo esservi iscritti naturalmente, così da non perdervelo. E mi tocca subito fare una aggiunta al video che nel frattempo ho registrato e stavo registrando. Il nuovo presidente della Juventus è Gianluca Ferrero. È stato scelto stamattina, prima dell'apertura della borsa, da Exor. Una decisione quindi di Elkan. Un tecnico, parliamo di un tecnico, di un altro uomo Elkan, così come Maurizio Arrivabene, così come Maurizio Scanavino. Maurizio Arrivabene che resta quasi per il disbrigo degli affari correnti come amministratore delegato della Juventus. Fino almeno all'assemblea del 18 gennaio, dell'assemblea degli azionisti del 18 gennaio. E Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale, ma il nuovo presidente si chiama Gianluca Ferrero. Non lo conosciamo, lo conosceremo, vedremo quale sarà il suo operato e lo valuteremo. Per il momento il dato di fatto è che la Juventus è comandata adesso, è diretta da tutti uomini del proprietario, non uomini del presidente, cioè John Elkan. Uomini del proprietario, tecnici, tecnici, che servono per guidare questa che speriamo sia una rinascita. E quindi ci sono responsabilità diffuse, ma lui parla di compattezza. Parla del venir meno della compattezza. Ma la citazione stessa a Nietzsche, che cos'è? È una stoccata alla famiglia, ve lo dico da settimane, ci sono equilibri nella famiglia molto delicati. E sono quelli anche che hanno portato a questa situazione. Cioè, dopo ci arriviamo perché il punto chiave è quello, ma quando lui parla di venir meno della compattezza, sta dicendo una cosa che è abbastanza discutibile, perché il problema è che è venuta meno la compattezza. Cioè, il problema è evidentemente che con tutti i problemi che sono stati generati, inchiesta, rilievi della Consob, disastro sportivo, ad un certo punto, non c'era più il supporto di tutti, ma meno male. Ma meno male che non c'era più la compattezza. Quindi ci si lamenta della compattezza. Questo perché? Perché Agnelli, uscendo, tira via la porta e dice, mi avete cacciato. Dici a John, ok, hai vinto la battaglia, mi hai cacciato tu. Tra l'altro un Agnelli che non tornerà. Non tornerà. Queste sono dimissioni definitive, perché adesso non può assolutamente tornare, e veniamo ad un punto chiave di questa vicenda, non può assolutamente tornare prima che sia risolto tutto dal punto di vista giudiziario. E attenzione anche al piano sportivo. Poi parliamo anche della preoccupazione che naturalmente c'è, serpeggia nei tifosi della Juventus. Ne parliamo. Ma qual è il punto chiave? E non martirizzare Andrea Agnelli. Non martirizzare Andrea Agnelli. Scusatemi. Cioè, adesso va bene tutto, ringraziamolo. Io non lo ringrazio. Io lo ringrazio zero. Passo zero secondi a ringraziare Andrea Agnelli, perché è stato 12 anni, e l'abbiamo ringraziato tempo per tempo. Cioè, ogni volta che abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, Cristiano Ronaldo, tante cose, sempre ringraziato Andrea Agnelli. L'abbiamo fatto tempo per tempo. La riconoscenza gli è stata offerta istantaneamente, momento per momento. Quindi, adesso non c'è da ringraziare per un bel niente. Chi lo vuole fare, lo può fare. Io non lo faccio. Io non lo faccio. Non perdo tempo a ringraziarlo, perché sono anni che sta distruggendo. E guardate, io fino al 2020, ancora fino al 2020, sono stato Agnelliano. Nel senso che nutrivo una fortissima stima per quell'uomo, lo definivo visionario. Ci sono i miei video, li potete recuperare, ci sono. Non mi nascondo, ma perché è chiaro che le cose le devi capire. A un certo punto devi arrivare ad una maturazione di comprensione. E a me, la vicenda di Bala, Agnelli che si presenta ai microfoni e parla male di un suo giocatore, mi ha fatto raggiungere la consapevolezza. Mi ha fatto aprire gli occhi. Non per Di Bala, perché al posto di Di Bala ci sarebbe potuto essere chiunque altro. Ma lì ho capito che parlavamo di un presidente ben poco visionario e lucido, ma un presidente di pancia. E da lì in avanti, ma pure prima, di decisioni di pancia, ne ha prese tantissime. Pure prima perché era già stato esonerato Sarri, per esempio. Decisioni di pancia. Quasi, in alcuni casi possiamo dire, vendicativo. Cioè, le ripicche. Quante ne ha fatte di ripicche? Allora, volete ringraziarlo? Lo si ringrazia, si passi quel tempo che serve un attimo per soffermarsi a dire dodici anni, questo, quell'altro, come se non lo sapessimo. Cioè, l'abbiamo, ripeto, rivendicato, anzi, è pieno, è pieno di palmares che vengono utilizzati a sproposito. Eh, ma abbiamo vinto, questo, quell'altro, Agnelli ci ha portato questo, quell'altro, e per questo non si poteva criticare. Ma, il punto chiave, è che queste dimissioni, sono, le stesse, dimissioni, post, Calciopoli, 2006. Cioè, nel 2006, il CDA, la dirigenza, furono azzerati, e furono costretti, all'azzeramento, per motivi politici, cioè, di opportunità, per difendere, meglio, la Juventus, per dare, un segnale, di discontinuità, di fronte, agli organi giudicanti, come a dire, giudicateci, ma tenete presente, che abbiamo preso le distanze, abbiamo invertito la rotta, abbiamo iniziato, un nuovo corso, quello, si decise, nel 2006. Siamo, alla stessa situazione, cioè, Agnelli, si è dovuto dimettere, il CDA, si è dovuto azzerare, per difendere, la Juventus, non dalle accuse, non dall'inchiesta, e dalla Consob, ma da Agnelli. Per difendere, la Juventus, da Agnelli, per prendere, le distanze, dai suoi errori, e dalle sue, responsabilità, che, eventualmente, saranno, oggettivizzate, cristallizzate, da parte della magistratura, cioè, magari, Agnelli sarà, assolto, formula piena, forse non va neanche a giudizio, non lo sappiamo, vedremo, passerà del tempo, forse anni, ma, forse, invece, potrebbero esserci, delle responsabilità, conclamate, anche dal punto di vista, della giustizia, ma intanto, devi prendere le distanze, cioè, sono arrivati, sull'orlo del precipizio, e l'unica cosa, che potevano fare, oltre sprofondare, era tirarsi indietro, e si sono dovuti tirare indietro, hanno detto, di qui non possiamo andare, da nessun'altra parte, e quindi, arrivederci, lasciamo il campo, sono stati costretti a farlo, e la cosa è successa, anche, fin troppo tardi, per questo, io avevo indovinato, questa cosa, ma ripeto, era sotto gli occhi di tutti, perché, era troppo chiara, da troppo tempo, che non si sarebbe potuto andare avanti, stiamo parlando, di un'inchiesta, che probabilmente, manderà a processo, diceva ieri Federico Ferri, direttore di Sky Sport, forse, sono arrivati, gli avvisi, sono arrivati, i rinvii a giudizio, stanno per arrivare, i rinvii a giudizio, perché la tempistica c'è, la tempistica è quella, se nessuno degli indagati, ha chiesto di essere interrogato, siamo proprio, nei giorni, in cui possono arrivare, i rinvii a giudizio, un'inchiesta, dicevo, che forse andrà a processo, vedremo nei confronti di chi, su due, su tre, anzi, annualità di bilancio, il bilancio approvato nel 2019, per il 2018, quello nel 2020, per il 2019, e quello nel 2021, per il 2020, e poi, quello del 2022, per il 2021, deve essere ancora approvato, ed è oggetto di rilievi, della Consob, che sono drammatici, oltre che di rilievi, della società, di revisione indipendente, che è Deloitte, non si poteva andare avanti, non potevano approvare il bilancio, questo è il punto, non potevano approvare il bilancio, quindi, si deve andare sostanzialmente, nell'esercizio provvisorio, con la prorogazio, infatti, la notizia, con il comunicato, che è arrivato poi ieri, di Juventus, oltre alla rettifica, al bilancio, al progetto, alla relazione, al progetto di bilancio, è che, la prossima assemblea degli azionisti, da che doveva tenersi il 28 ottobre, e poi il 23 novembre, e poi il 27 dicembre, ci sarà il 18 gennaio, con prorogazio, e quindi, dimissioni totali, Maurizio arriva bene, amministratore delegato, per il disbrigo degli affari correnti, potremmo dire, sostanzialmente, chiesta la sua permanenza, direttamente dal CTA, ma non dal CTA, da Elkan, perché, arriva bene, arriva, a luglio 2021, come longa manus di Janelkan, l'abbiamo detto un milione di volte, era un commissario liquidatore, che ha fatto ottimamente il suo lavoro, dobbiamo dire, anche se, in alcuni passaggi, non è intervenuto, ha lasciato fare, quest'estate, ha lasciato fare, ha lasciato comprare 5 trentenni, o quasi trentenni, o più che trentenni, più anche, va bene, Bremer, ha consentito, allo smantellamento, di quello che doveva essere, un progetto giovani, ha lasciato fare, Vlaovic, è stato preso, in questo senso, come abbiamo detto, dalla proprietà, non era una mossa, di un direttore sportivo, o di Allegri, o neanche di Agnelli, per dire, ci serve Vlaovic, per costruire qualcosa, su quella sciarfare, di Arriva Bene, c'è anche lì, l'intervento di Elkan, dietro, della serie, fate Vobis, poi però, le responsabilità, sono le vostre, e quello si stava aspettando, Elkan, aveva messo in piedi, una strategia, win-win, perché, se le cose fossero andate bene, lui si sarebbe potuto disinteressare, i meriti sarebbero andati, ad Andrea Agnelli, non a lui, ma tanto lui, non sta in campo, non scende in campo, è da parte, semplicemente, si sarebbe, si sarebbe evitato, delle grane, se le cose fossero andate male, come stanno andando male, nonostante il costante insabbiamento, della stampa e dei social, sui risultati pessimi, della Juventus, e sul rendimento pessimo, dei giocatori, a quel punto, la responsabilità, inevitabile, non sarebbe stata di Elkan, ma sarebbe stata proprio di Andrea Agnelli, delicati equilibri familiari, John Elkan non può rimuovere Andrea Agnelli, non l'ha rimosso, semplicemente Andrea Agnelli, con le proprie mani, si è distrutto, da solo, la situazione si è andata a deteriorare troppo, non si poteva andare oltre, potevi solo sprofondare se sono dovuti tirare indietro, ma John Elkan da questo punto di vista ha mosso i fili, e continua a farlo, è la sua vittoria, è la sua vittoria, vedremo se sarà anche, e in che termini la vittoria nostra di tifosi, e la vittoria della Juventus, dipende da quello che faranno adesso, non è che adesso va tutto bene, non è che adesso saremo, sarà tutto bellissimo, c'è la speranza però, perché finché resta Agnelli, sappiamo quello che può fare, sappiamo qual è la sua gestione, sappiamo che cosa ci possiamo aspettare, cioè per quanto mi riguarda, tutto male, per quanto mi riguarda, malissimo, per quanto mi riguarda, la distruzione che stavano portando avanti da anni, e di cui da anni vi parlo, e di cui da anni vi parlo, ma adesso, e veniamo alla preoccupazione dei tifosi, poi torno un attimo con i ragionamenti, capite che vado anche un po' così, come mi viene, perché i contenuti sono tanti, adesso ci sono tifosi che dicono, se esultate non siete veri tifosi della Juventus, e siamo alle solite, e siamo alle solite, hanno sempre ragione loro, cioè quando per anni abbiamo detto, guardate che questo presidente non è intoccabile, non è l'esa maestà a criticarlo, perché sta probabilmente combinando dei disastri, ci veniva detto, vai a tifare Inter, ci veniva detto, vai a tifare questo, non sei un vero tifoso, perché bisognava usannare Agnelli, adesso che Agnelli andrebbe trattato, e ribadisco, altro che martirizzarlo, andrebbe trattato come Moggi, Giraudo e Bettega nel 2006, andrebbe trattato, non dico la Damanazio Memorie, ma andrebbe trattato come Moggi, Giraudo e Bettega nel 2006, andrebbe trattato come la triade, andrebbe salutato come la triade, cioè con imbarazzo, quasi con disprezzo, a dire ci stai rovinando, hai quasi rovinato la Juventus, hai quasi distrutto la Juventus, e meno male che ti hanno costretto alle divisioni, se no chissà dove altro ci portavi, questa dovrebbe essere, la consapevolezza dei tifosi, in questo senso c'è da esultare, in questo senso buona alba Juventus, che sia una nuova alba, che si possa tornare a tifare, con forza, con energia, senza il pensiero, che vai a sostenere una società in cui non credi, magari adesso possiamo tornare a credere, in questa società, vedremo, vedremo, perché il nuovo CTA sarà determinato, dall'assemblea degli azionisti, il 18 gennaio, e poi arriviamo, ripeto, la parte sportiva, la trattiamo a parte, per quanto riguarda Allegri, per quanto riguarda Cherubini, per quanto riguarda i giocatori, e il mercato, dicevo, torniamo ai tifosi, perché adesso veramente volete dirci, chi esulta non è un vero tifoso, perché? Perché? Cioè, è legittimo esultare, è legittimo ringraziare Agnelli, è legittimo essere tristi, è legittimo essere preoccupati, ma ancora con questa storia delle patenti di tifo, possiamo dire che chi dice una cosa del genere, è perché è frustrato, perché si è reso conto che ha perso? Si è reso conto che ha perso? È una sconfitta? È una sconfitta per chi? Per gli Agnelliani, evidentemente, per quelli che ti dicevano, vai a tifare l'Inter, se criticavi Agnelli, vi sentite sconfitti? Non è un problema mio. Io mi sento vittorioso? No, mi sento vittorioso come tifoso, cioè mi sento come tifoso premiato nella mia perseveranza, nella speranza che potesse la Juve essere salvata e risollevata. Ma adesso c'è anche un altro problema all'orizzonte, sì, il processo sportivo, certo, il processo sportivo per le plusvalenze, ma non solo per le plusvalenze, in generale per i bilanci, si potrebbe riaprire, è normale, qui siamo sotto una spada di Damocle pericolosissima, per quanto riguarda tutta la gestione, contabile, di bilancio, di una società, potrebbero avere combinato cose, vedremo che cosa accerterà la magistratura, ma all'esito di quello, il processo sportivo, è chiaro che si riaprirà, si riaprirà un processo sportivo contro la Juventus. Cosa rischia la Juventus? Non credo assolutamente, radiazione e retrocessione, non credo assolutamente, non ho timori da questo punto di vista, ma qualche punto di penalizzazione sì, e i punti di penalizzazione ricadrebbero sulla stagione in corso, nel caso, ricadrebbero nel caso, forse nella stagione in corso, o quella prossima, quindi ne va anche del risultato sportivo di questa stagione, in questo senso, se vogliamo salvare la Juventus, da un futuro nefasto, perché adesso deve partire un nuovo progetto, perché adesso deve partire un nuovo progetto, dobbiamo sperare di fare più punti possibili in campionato, così che se ce ne tolgono, quelli che ci tolgono, diventa innocua la cosa, ma il rischio c'è, chi è che ci rassicura adesso, chi lo sa che non succederà qualcosa di grave a livello sportivo, un processo sarà riaperto inevitabilmente, probabilmente non parliamo di sanzioni esorbitanti, ma qualcosa potrebbe succedere, qualcosa potrebbe succedere, e tornando al discorso Calciopoli, Calciopoli fu una farsa, fu una farsa, fu un processo irregolare, va bene, fu un processo irregolare, fu una cosa che fu ingigantita, ci furono dei capri espiatori, va bene, ci fu qualche capri espiatorio, riguardava la Juventus, ci fu una sanzione enorme, che ancora sanguina, è ancora una ferita aperta per tutti i tifosi della Juventus, che l'hanno vissuta, per tutti, ma era qualche cosa che quei dirigenti, se hanno commesso delle irregolarità nella misura in cui sono state accertate, le hanno commesse, in proprio, personalmente, per conto della Juventus, ma nell'ambito di una strategia, diciamo, tecnica, di rapporti con le istituzioni, non erano delle irregolarità, nella parte amministrativa, nell'operato specifico di un'azienda, qui ci sono dei rilievi gravissimi, per quello che riguarda la normale attività di un'azienda, la normale attività di una società, è più grave o è meno grave di Calciopoli, questa situazione, a livello di accuse, a livello di attribuzione di responsabilità, poi vedremo, è più grave o è meno grave, per questo ripeto, Andrea Agnelli andrebbe salutato come, ma oggi, Giraud e Bettega all'epoca, quasi con disprezzo, salutato come a dire, vattene prima che rovini, vattene prima che ci distruggi, e dobbiamo sentir parlare, di che cosa? Di complotto della magistratura, complotto della magistratura, sono arrivati fin troppo tardi, arrivano nel 2021 e 2022, ad analizzare i bilanci del 2018, che sono stati approvati nel 2018, voglio dire, voglio dire, è una situazione che va avanti da tempo, ed era sotto gli occhi di tutti, e qualcuno, che magari adesso si scandalizza, lo sapeva, lo sapeva forse meglio di me, perché ripeto, io, che non ho fonti dirette, ci sono arrivato, pensate chi ha fonti dirette, pensate chi conosce i dirigenti, pensate chi conosce qualche dipendente, chi conosce qualcuno che sta nell'ambiente, chi vive a Torino, ma non voglio accusare nessuno, ognuno si è assunto la responsabilità di quello che ha detto, e di come ha raccontato tutta questa vicenda, però cadere dal pero, adesso è un po' tardi, e ci si fa male, e vi avevo detto attenzione, perché poi quando, quando, quando cadrete dall'albero, rischiate di farvi male, non venite a lamentarvi da me, perché vi avevo avvisato, ora, che cosa succederà, dicevo, la cosa, la cosa che ha portato alle dimissioni, sono i rilievi Consob, non potevano approvare il bilancio, hanno dovuto operare un'ulteriore rettifica, netta, ma proprio, ma discostandosi completamente da quello che avevano scritto, quindi che credibilità ci poteva essere, nell'andare avanti con questa dirigenza, che poi ecco, adesso qualcun altro deve risolvere i problemi, per una questione di credibilità e di discontinuità di Juventus, però i problemi li hanno causati loro, ma, se ne assumeranno le responsabilità eventualmente in altra sede, il fatto stesso di non poter più dirigere, parlo soprattutto di Agnelli e Nedved, è in qualche modo un'assunzione di responsabilità, è in qualche modo una pena, una pena che devono subire. Adesso che cosa succederà? Adesso c'è, intanto non l'ho ancora nominato, ma era implicito, dimenticanze che possono capitare, Maurizio Scanavino, chi è Maurizio Scanavino? Altro uomo di John Elkart, questa è una vittoria di John Elkart, Scanavino, nuovo direttore generale, però vedete che torna tutto, vedete che torna tutto, perché in questi giorni si stava parlando di nuovo direttore generale della Juventus, e si era parlato di Cherubini, e invece è Maurizio Scanavino, si era parlato, aveva detto Agnelli ad Aifa, a fine anno trarremo le conclusioni, fine anno, non fine stagione, fine anno, quindi Agnelli ovviamente sapeva che aveva i giorni contati, le settimane contate, poi che cosa è successo ieri mattina che ha portato a quella riunione straordinaria del CDA, di cui guarda caso nessuno sapeva, nessuno sapeva, si vociferava, si riunisce un CDA, nessuno sapeva, poi all'improvviso arriva il comunicato e tutti sanno, vedete ripeto, c'è stata tantissima cautela, non dico omertà, non dico omertà, però c'è stata una coltre di nebbia, in tutta questa situazione, per mesi, non ci hanno voluto raccontare veramente tutto quello che sapevano, per come la vedo io, ma nel pieno rispetto dei ruoli, cioè, non dico che qualcuno ha commesso delle irregolarità, dei fatti illeciti, ci mancherebbe, non c'è nulla di illecito, non c'è nulla di irregolare, semplicemente è una scelta, è stata fatta una scelta legittima, di essere cauti, la rispetto, la rispettiamo, però non è che adesso ci si può venire a dire, oh mio Dio, che è una situazione disastrosa, lo sapevate, era tutto scritto, Scanavino è uomo Elkan, assolutamente, ha fatto la trafila anche lui, nelle varie aziende del gruppo, del gruppo Exor, ha lavorato con Marchionne, è stato in Gedi soprattutto, quindi, come amministrativo, ecco, qual è, qual è adesso il nuovo volto del nuovo CDA, quando ci sarà il 18 gennaio? Probabilmente un volto tecnico, probabilmente sceglieranno delle persone competenti, competenti, e me lo auguro, anche se dovessero essere uomini fidati di Gionelkan, come Scanavino, come arriva bene, anche se dovessero essere altri uomini della famiglia, in senso lato, cioè, che hanno già lavorato nelle varie aziende di famiglia, va bene, l'importante è che siano competenti, l'importante è che non vengano presi in quanto giuventini, e da questo punto di vista, un'altra liberazione che sta maturando in queste ore, è la liberazione dagli amici e amichetti di Agnelli, dagli amici e amichetti di Agnelli, che tornano ad essere impresentabili, perché ripeto, non dico la damnazio memorie, ma la discontinuità, dove ti presenti per esempio con Chiellini, dove ti presenti per esempio con Buffon, ma lo stesso Cherubini, non so quanto futuro possa avere alla Juve, lo stesso Allegri, non so che futuro possa avere alla Juve, poi naturalmente si parla di Del Piero, che ieri in diretta, su Bainsport, dal Qatar, dove commenta per Bainsport il Mondiale, ha detto, io ho ancora casa a Torino, sono in stand-by, il rapporto con il mondo Juve è profondissimo, sono stato lì vent'anni, sono sceso in Serie B, insomma, Del Piero che quasi si sta candidando, ed era una gioia Del Piero, ma questo cosa ci fa capire? Che il povero Del Piero è stato in esilio, in esilio per 12 anni, di meno, cioè da quando ha lasciato la Juve, due anni dopo, il secondo anno della gestione Andrea Agnelli, da quando ha lasciato la Juve, quindi da un decennio, è in esilio, e sì, perché dal 2012, e ne abbiamo parlato, perché è tornato, quando è tornato? È tornato quest'anno, è tornato ad aprile 2022, quando giochiamo contro il Bologna, all'Allianz Stadium per la prima volta, e quello già doveva essere un segnale che qualcosa stava cambiando, ed è stato un segnale che qualcosa stava cambiando, lo abbiamo recepito come un segnale, poi non se n'è fatto nulla, l'abbiamo aspettato, però intanto, intanto, vediamo che Del Piero, invece di dire no, io non so nulla, è una situazione che non conosco, ma io resto a fare le mie cose, quasi quasi si candida a fare chissà cosa, non sappiamo cosa, vedremo, potrebbe avere un ruolo marginale, un ruolo di rappresentanza, un ruolo istituzionale, un ruolo come una figura quasi di garanzia, mentre ci sono le persone competenti, i tecnici che guideranno la Juve, vedremo chi sarà, adesso però purtroppo è il momento degli sciacalli, questo è il momento delle iene, che non ridono perché oggi piangono gli sprovveduti, ma pensano di aver trovato la preda facile, nel fatto che adesso è facile andare sulle carcasse a mangiare, il difficile era abbattere la preda quando era ancora in vita, quando era ancora lì, ma era evidente che fosse in realtà verso la fine del suo percorso, io non ho abbattuto nulla, però ho semplicemente detto quando ero al buio, quello che adesso tutti dicono alla luce, e va bene così, vi ringrazio solo di aver creduto in quello che vi stavo dicendo, ripeto, non perché lo dicevo io, spero, ma semplicemente perché credibile, e adesso, adesso cosa dire, speriamo che la Juve rinasca, quasi dalle sue sceneri, speriamo di poter rivedere davvero una grande alba, di una grande Juve, di un grande ritorno, a quello che amiamo, a quello che desideriamo, una Juve forte, abbattendo la retorica, abbattendo la gestione, la narrazione politica, di un presidente, che ormai era diventato il presidente, di se stesso e contro tutti, di se stesso e contro tutti, speriamo che adesso ci sia un presidente della Juventus, un presidente della Juventus, una dirigenza della Juventus, per il bene della Juventus, al bando gli amici e gli amichetti, viva la competenza, e poi vedremo, ma ne parlo a parte, se ci dovesse essere un'ulteriore rivoluzione, a livello di proprietà, con l'orizzonte giugno, i prossimi mesi, si vocifera di grandi offerte, per acquistare la Juve, cioè di grandi interessamenti significativi, così come si vocifera di nuovo aumento di capitale, o di ingresso di un nuovo socio, di minoranza, di cui pure vi parlo, da un sacco di tempo, questo è di là da venire, ma intanto, buona alba, Juventus. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, mettete like al video se vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale, attivando la campanella delle notifiche, per non perdere i prossimi video, in cui avremo, una montagna di cose, da dire, a cominciare dal prossimo, in cui vi parlo specificamente, della situazione di Allegri, e di Cherubini, e della gestione tecnico-sportiva, Cogliete l'occasione per abbonarvi al canale, vi bastano 99 centesimi al mese, già solo con 99 centesimi al mese, avete tantissimi vantaggi, saprete quando usciranno i miei nuovi video, di cosa vi parlerò, parteciperete a tanti eventi in diretta, potrete sbloccare anche tutte le chat, sul mio server Discord, dove si parla di Juventus, ma anche di calcio, e avere tanti altri vantaggi. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve! Grazie a tutti!